Solunendo le forze, riscoprendo Sulmona come la propria casa, si ottiene una comunità più pulita e accogliente. Questo estenso di Puliamo il Mondo, la tre giorni promossa da Lega Ambiente, che parte domani a Parco Fluviale a gusto da olio di Sulmona. L'appuntamento è per le ore 15.30 per cambiare d'aspetto il polmone verde della città. Per partecipare basta lasciare il proprio nominativo nei punti di raccolta. Il materiale sarà consegnato dagli organizzatori, cappellino, pettorina e guanti, da portare con sé solo tanta buona volontà. Nella giornata di sabato ci si sposterà nei pressi del Conad di via Sallustio, nella chiesetta della Potenza, in quella di Maria Santissima, ausiliatrice, in via San Polo. Nel pomeriggio ritrova Palazzo San Francesco per la pulizia del centro storico, porta a Napoli e Piazza Tresca. Domenica chiusura alle frazioni, precisamente nei pressi dell'ufficio postale di Torrone, nella chiesetta della Madonna di Loreto delle Cavate, fino ad arrivare alla bazia celestiniana di Sulmona e al piazzale di via Montale. Sono già un centinaio i volontari che si sono prenotati per pulire tutta la città, fra anziani, volontari delle frazioni, studenti delle ceoferme e del nido di via Sallustio, scout, giostra cavaleresca, alpini, immigranti, croce rossa, centro anziani ed altre associazioni, mentre dalle frazioni continuano a piovere polemiche per il crescente fenomeno di inciviltà. Non pochi in effetti residenti del centro urbano e degli altri comuni limitrofi che arrivano nelle periferie per depositare rifiuti e il più delle volte anche al di fuori degli appostiti contenitori, che puliamo il mondo ridesti, il senso di rispetto e buonsenso verso la città.